C'è un appidamento diretto dal comune di Balestrate che ha già fatto scattare l'allarme in piena campagna elettorale. Il comune ha in fatto appidato i lavori per 12.000 euro alla ditta locale Dorotea Servizi che fa capo all'imprenditore D'Aleo per realizzare gli ultimi interventi necessari al parco giochi. È l'ennesimo appidamento diretto di queste settimane. E tutti questi lavori rendono l'idea di un'amministrazione iperattiva, ma il reale in realtà emergono alcune anomalie. Intanto il sindaco sui social ha detto che si tratta di un altro finanziamento che è riuscito a ottenere. Ma non è così. Si tratta infatti di un contributo erogato dal governo Conte nel 2020 a tutti i comuni delle regioni meridionali, soldi che sono arrivati in maniera automatica. Ma non c'è solo il dato politico a destare scalpore. Secondo il decreto il comune avrebbe dovuto iniziare i lavori il 31 marzo. L'iter burocratico risale a fine marzo e dunque al photo finish. Questi soldi sono a rischio di essere restituiti al governo nazionale? Ma c'è di più. Questi soldi si stavano addirittura perdendo e sono stati recuperati in estremis. Sono stati quindi utilizzati attraverso un affidamento diretto, una procedura il cui ricorso è appunto giustificato dall'urgenza. In realtà questa urgenza poteva essere evitata. L'amministrazione comunale infatti da tempo era a conoscenza di questi interventi e avrebbe anche avuto delle somme a disposizione, quelle alla democrazia partecipata. Di questi soldi però nessuno ha saputo più nulla. Ne ha chiesto notizie il consigliere comunale Curcurù al sindaco in aula senza ricevere risposta. Dunque il risultato è questo. I ritardi nella stesa dei fondi e i ritardi negli interventi al parco giochi hanno giustificato in campagna elettorale la necessità di ricorrere a un affidamento diretto di 12.000 euro. E a chi sono andati? Alla Dorotea Servizi che fa capo a un imprenditore da Leo che negli anni ha sempre seguito le dinamiche della politica locale.